Italia-Grecia è un progetto di un milione e mezzo di euro e quindi cercheremo di fare qualcosa per la salvaguardia di quel territorio per far sì che questo territorio venga conosciuto da punto di vista turistico. Quindi entreremo in un discorso internazionale e lì ci muoveremo sicuramente in modo tale che sappiano in tutta Europa, almeno in tutta Europa, che tipo di sito è, che zona è quella lì, quindi mi muoverò sul territorio, mi muoverò con il sindaco del comune di Gioide Colle, non lo sa ancora il sindaco ma insomma prossimamente vedrà, chiederò un appuntamento. Il prossimo sindaco adesso, insomma, ormai. Ah ecco, va bene, ok. Però l'importante è che si faccia qualcosa sul territorio, io credo moltissimo in queste azioni e veramente perdo una marea di tempo nel seguirle. Poi volevo, insomma, questo libro è una guida per tutti. Cosa lascia questo libro al lettore? Cosa chiede al lettore? Rispondo giusto brevemente alla questione analisi satellitari perché la ritengo rilevante della domanda precedente. Gli analisi satellitari sono state fondamentali e c'è veramente un capitolo intero dedicato a questo perché permettono di capire cosa accade dall'alto, cioè da un'altra prospettiva. Uno dei più grandi raggiungimenti dell'umanità sia quello di capire la visione d'insieme, avere un po' lo sguardo dall'alto. Dallo sguardo dall'alto noi capiamo quanto territorio stiamo perdendo, quanto viene mangiato dall'urbanizzazione, quanto viene distrutto da pratiche agricole intensive, quanti boschi vanno via. Il capitolo che abbiamo voluto inserire mostra come il territorio delle murge di sud-est, che non è da meno rispetto a quello del Parco Nazionale dell'Altamurgia, che potrebbe essere considerato quello delle murge di nord-ovest, sia in pericolo. È quanto quei piccoli scrigni che alla fine si sono conservati e preservati all'interno del territorio abbiano ancora da dire. Lo dimostra il fatto della scoperta di nuove specie o comunque dell'invenimento di particolari piante o flora endemica, come la Dictamnus albus, che è una pianta studiata molto dalle università. Per quanto riguarda invece l'impegno del lettore, è un po' strano chiedere quale può essere l'impegno del lettore, perché il lettore solitamente legge il libro, lo utilizza, speriamo vada a visitare, seguendo gli itinerari, quelli che sono gli itinerari proposti, però solitamente non viene chiesto un grande impagno al lettore. Invece al lettore quello che vorrei chiedere è di sfruttare questo che è stato il risultato di un lavoro lungo, faticoso, ma di grande soddisfazione per farsi in prima persona paladini della difesa di questi territori. Non solo visitarli come semplici turisti, ma fare la propria parte per divulgare questo messaggio, per portare a conoscenza di più persone possibili, non tanto per vendere il libro, quanto per veramente far conoscere questa zona, questo territorio, e non solo questo, perché la bellezza che è custodita qui all'interno rimane in pericolo fino a quando buona parte della popolazione non la conosce, non è nota. Quando invece la consapevolezza sull'interesse per i territori diventa diffusa, allora possiamo essere un po' più tranquilli sulla sua protezione. Infine, quale sarà il futuro di questo progetto? Finisce con questo libro o continua e con che cosa eventualmente? Continua proprio con questo approccio, cioè quello della partecipazione. Il libro è frutto del coinvolgimento di molti ricercatori, quasi ingaggiati per caso, con degli annunci pubblici nelle università, nei campus, che entusiasti hanno prestato le proprie conoscenze, la propria opera veramente gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio soltanto per la passione. Questo credo che sia veramente un bel messaggio, perché il risultato poi è un libro, ma soprattutto quando è un bagaglio di conoscenze che sino ad oggi, sino all'uscita di questo volume, erano disperse, erano frammentarie, polverizzate, possiamo veramente essere tutti soddisfatti, perché ci fa capire che alla fine è vero che i tagli economici, le politiche non sempre molto attente a livello nazionale hanno compromesso il livello della ricerca italiana, la fuga dei cervelli, la carenza di fondi per grandi progetti, però quando davvero si è mossi da una passione, come è stato nel caso di questo libro, come è avvenuto qui, dove la passione veramente ha preceduto qualunque sacrificio, qualunque fatica, qualunque stanchezza, i risultati possono essere comunque ottenuti, anche con un memo di fondi. Questo progetto, per la realizzazione di questo libro non ha usufruito di più di circa 1000 euro di fondo di base, quindi abbiamo fatto quasi tutto in economia, però mossi da grande entusiasmo. L'interesse del lettore quindi credo dovrebbe essere anche rivolto a questo tipo di nuovo approccio, cioè cercare di fare ricerca nel proprio piccolo, ognuno di noi può essere davvero ricercatore, può essere davvero il primo a tutelare il territorio, semplicemente con la sua presenza, con la sua documentazione, anche una foto, anche un video può essere fondamentale. Il progetto infatti prosegue proprio per questo, perché noi abbiamo realizzato un sito web collegato al volume, dove tutti coloro interessati, appassionati, turisti che visitano quest'area possono caricare video, segnalare la presenza di nuove specie, inviare foto, inviare commenti, dove possono scaricare gratuitamente tutti gli itinerari che poi vanno a comparire sul famoso software di Google Earth, dove ognuno può individuare qual è il suo preferito, scegliere i siti, lì sono caricate anche delle immagini, quindi può vedere le immagini in anteprima del volume, scegliere i luoghi, trovare i trulli che più gli interessano, delle masserie più particolari o delle specie addirittura, andare a visitare, per esempio noi abbiamo riscontrato per molti turisti, anche tedeschi, il falco grillaio che per noi in questo territorio è una presenza diffusa ma neanche tanto eclatante, lo vediamo, ci fa piacere trovarlo in primavera ogni anno, però non è nulla di particolare, invece essendo una specie davvero molto rara, inserita in una lista rossa, endemica, tipica di questo territorio, per un turista straniero, anche per una persona che viene magari dal centro, dal nord Italia, è una presenza rilevante di grande interesse, quindi suscita grande interesse, ecco, grazie al portale web, è il progetto che è un continuo divenire, veramente di partecipazione. Il portale? Ecco, basta digitare florefaunamurge su un qualunque motore di ricerca che viene fuori, però l'indirizzo è florefaunamurge.netsons.org Netsons? Sì, figli della rete in qualche modo, anche questo è un portale partecipativo, vogliamo... Forse questo fa parte del portale? Sì, questo diciamo, all'interno del sito troviamo queste immagini, c'è l'anteprima di ogni capitolo con una breve descrizione di quello che è all'interno, ecco qui vediamo ad esempio il monumento di cui parlavo prima, il sergente romano, il brigantaggio, inserito in questo bosco molto particolare, si accede attraverso il tratturo, poi si entra nel sentiero, quindi diventa un'esperienza quasi mistica, si può rimanere lì a guardare questo monumento, oppure territori come questo, il paritone del diavolo, un ambiente particolarissimo, nessuno potrebbe immaginare, ma racchiude una storia anche di sette sataniche, aspetti particolari della cultura del territorio ricco di masserie, una parte interessante e cospicua riguarda proprio le grotte e gli inghiottitoi, abbiamo voluto inserire anche questo perché le grotte a ben motivo fanno parte del territorio e di quello che sono poi le differenze nel paesaggio, ricche di fauna, anche le grotte, abbiamo trovato all'interno per esempio rarissimi rinolofi che sono alcune specie di chirotteri simili ai pipistrelli che vivono soltanto in particolari zone molto conservate, purtroppo adesso la cementificazione, la chiusura o l'invasione delle grotte ha portato alla scomparsa di questi animali, così come la diffusione dei pesticidi. Zone molto belle che possono essere visitate come quella della gravina di Castellaneta, chiunque può entrarci e si ritrova davanti a questi spettacoli naturali, quindi sì, questo che stiamo vedendo è un'anteprima di quello che è sul sito web e comunque ovviamente nel volume e che vuole dare al lettore un'idea di quello che è poi la bellezza del territorio, quindi speriamo davvero che questo progetto possa continuare nel futuro, non si ferma qui, ecco la pubblicazione del libro non è un termine ma è solo l'inizio, l'inizio nella speranza che tutti possano apprezzare questa bellezza, quella che noi abbiamo visto con i nostri occhi, siamo rimasti noi stessi sorpresi, qualcuno potrebbe pensare, vabbè ma voi siete abituati, ci andate spesso, invece no, siamo rimasti veramente piacevolmente sorpresi, speriamo lo siano anche i turisti, i ricercatori, ma soprattutto, ecco questo è un appello, gli amministratori, perché è da loro che dipende spesso buona parte della conservazione del territorio, se loro sapranno apprezzare questa bellezza e noi cerchiamo di fargliela guardare direttamente attraverso questo volume, attraverso organizzazioni di escursioni, di gite proprio lungo questi itinerari, se loro stessi saranno capaci di stupirsi come ci siamo stupiti noi, forse anche loro avranno un po' più a cuore queste problematiche, non sempre contano le politiche, a volte conta anche la protezione. Noi purtroppo abbiamo finito anche questa trasmissione, quindi vi saluto e arrivederci alla prossima puntata. Grazie, grazie.